Poesia, musica, pittura, fotografia, letteratura, botanica ed esoterismo. Si respira cultura a Villa Piccolo, a Capodorlando. Quella cultura che fu propria di Casimiro, Lucio e Agata Giovanna e che oggi continua a vivere grazie alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, rinnovatasi da pochi mesi. Oggi è stata inaugurata la Casimiroteca, un viaggio fra i disegni e gli acquerelli di Casimiro Piccolo, in un percorso che va dalle opere giovanili, passando per quelle esoteriche, e poi l'ultima stanza dedicata alla passione di Casimiro per le fotografie. Questo è un mondo diverso da tutti gli altri. Cioè qui non si puntava alla moda, all'opinione, al successo. Qui si puntava alla scoperta del proprio essere. E quindi attraverso poesie vertiginose, attraverso quei grandi acquarelli spirituali di Casimiro. Casimiro con i suoi disegni, i suoi quadri, gli acquarelli, le fotografie, Agata Giovanna con l'opera d'arte meravigliosa, che è questo giardino magico di Villa Piccolo, in cui crescono specie che solo qui possono attecchire, e Lucio con i versi immortali che ci ha lasciato, e le liriche veramente pregne di una visione spirituale, intima, ma da consegnare all'universo. Oltre alla Casimiro Teca, oggi è stata anche scoperta la targa del viale dedicato alla moglie di Vanni Ronsisvalle, l'autore del documentario Il Favoloso Quotidiano. L'emozione è per il pensiero che ha avuto il presidente e chi lavora accanto con questa fondazione, di ricordare questa persona che era presente quando con la troupe venne qui a girare, ad incontrare Lucio, Casimiro, Giovanna. Quindi, durante passare anni dopo, fatalmente, la parola di emozione è quasi riduttiva. La rinascita dell'attività culturale della Fondazione Famiglia Piccolo di Caranovella è un richiamo per gli appassionati di arte e cultura, e sicuramente anche un'importante risorsa per Capodorlando. Ci sono ovviamente in cantiere tante altre iniziative, anche di tipo editoriale, su cui stiamo lavorando. C'è un fervore di iniziative culturali, di produzione di cultura, come mi piace dire, fra le mille difficoltà che istituzioni culturali di questo genere oggi hanno, sono soprattutto le difficoltà economiche. Un vanto, un orgoglio, una risorsa è la consapevolezza di qualcosa che non appartiene solo a Capodorlando e che grazie all'attività che il Presidente Benedetto e i consiglieri hanno messo in piedi dopo questo cambiamento ci apre al mondo, devo dire al mondo, perché quello che respiriamo qui e quello che abbiamo qui è qualcosa che va ben al di là dei confini della nostra terra.